I lupi non cacciano più, ma rovistano fra i rifiuti per passare il tempo. Poco lontano da lì, il branco si sta cibando di un altro bisonte morto. Ma c'è qualcun altro che ha puntato il pasto dei lupi. Sono una madre di grizzly e tre grandi cuccioli. Crescere tre gemelli allo Yellowstone è una vera rarità. E anche tra i grizzly, che sono notoriamente brave madri, lei è davvero straordinaria. Con così tante bocche da sfamare, non ha altra scelta che scagliarsi contro il branco. Proprio quando sembra che possa averla meglio, qualcun altro sembra aver fiottato il pasto. E' un maschio solitario. E questa è una pessima notizia. A volte i maschi di grizzly uccidono i cuccioli. Questa volta, però, si è avvicinato troppo. Un orso maschio e giovane non può reggere il confronto con una madre agitata. E anche se ha avvicinato. Una volta, avete visto voi non può reggere l'atmosa oggi. Per essere qui? Grazie a tutti.